Musica Ben trovati tra poco l'appuntamento con l'informazione post-Fran, nulla osta del RAI per la costruzione di una strada a Sant'Anna. Incendi in un'abitazione, intervento della polizia in via Colaianni. Impianti termici scade oggi il termine per la registrazione al Catasto regionale. A tra poco. Ben trovati, nuovo appuntamento con l'informazione post-Fran, nulla osta del RAI per la realizzazione di una strada a Sant'Anna. Abbiamo intervistato l'assessore comunale ai lavori pubblici Amedeo Falci. Sul fronte della frana di Sant'Anna arriva il nulla osta del RAI per la realizzazione di una strada. Sì, finalmente è arrivato il nulla osta del RAI che ha messo a disposizione il percorso per un certo periodo, sei mesi mi pare, poi si rinnoverà la richiesta. Comunque si è risolto senza espropri e senza niente, diciamo di comune accordo. RAI Way ha detto che la mette a disposizione per i cittadini, quindi è un'azione di RAI Way da premiare. Parliamo di questa strada e in via Antenna. La strada parte dalla via Antenna e poi si muove prima in una proprietà comunale che è quella di Caltacqua, per ora adibita a deposito di tubi e altro. E poi continua a confine, proprio sul lato sud del muro di recinzione della proprietà RAI. Quindi noi prepareremo la strada, si disporrà chiaramente una rete per evitare che chi transita nella strada possa entrare direttamente nella proprietà RAI. I lavori quando cominceranno? I lavori sono iniziati stamattina e domani pomeriggio saranno completi. Quindi domani sera, diciamo che tutti potranno, quelli della parte di sopra, potranno rientrare nelle abitazioni. Parlando della frana, cosa si può dire? La frana abbiamo fatto noi un intervento di sicurezza, ora non dovrebbero esserci almeno più problemi, però va fatto poi un progetto definitivo per la sistemazione del versante, che chiaramente non è competenza dell'ufficio tecnico del comune, bensì di altri enti del territorio, quale per esempio il genio civile che si occupa normalmente di queste cose. Incendio in un'abitazione in via Colaianni, intervento della polizia. Nel tardo pomeriggio di ieri, in un appartamento sito al quarto piano di via Napoleone Colaianni, causato verosimilmente da un cortocircuito, si è sprigionato un incendio all'interno della cucina dell'abitazione di un'anziana donna che vive da sola. A causa dell'incendio, che si propagava con una certa velocità, la donna implorava urla di aiuto che erano dite da un poliziotto libero dal servizio che in quel momento si trovava ospite presso amici in un altro appartamento sito nello stesso stabile. Il poliziotto, sentite le urla della donna, interveniva prontamente. All'interno dell'abitazione in questione, la gente si procurava dei panni bagnati d'acqua che gli consentivano di respirare più agevolmente e soccorreva l'anziana donna che, in forte stato di agitazione, stava cercando in vano di spegnere le fiamme. Portata la donna in salvo fuori dall'appartamento, il poliziotto, unitamente ai colleghi di una volante, nel frattempo sopraggiunti sul posto, si rintroduceva all'interno dell'abitazione dove, non senza fatica, si riusciva ad individuare e chiudere la valvola del gas ed a spegnere l'incendio con dei secchi d'acqua. L'opera di spegnimento era conclusa da una squadra di vigili del fuoco. Impianti termici. Scade oggi il termine per la registrazione al catastro regionale. Parlano Giulia Cortina, dirigente del settore ambiente dell'ex provincia e Giuseppe Iacono, funzionario dello stesso ufficio. Oggi scade il termine per la registrazione degli impianti termici al catastro regionale. C'è stato un avviso da parte dell'ex provincia, ora libero consorzio. Sì, perché la provincia è stata individuata per legge quale autorità competente e quindi è quella che dovrà fare poi gli eventuali controlli e ispezioni sia dal caso, appunto in caso di nata impienze. Quindi siamo parte attiva in questa vicenda, quindi abbiamo fatto un comunicato dicendo che la Regione ha fissato con un decreto dirigente generale questa data del 7 che è una data ovviamente che va rispettata, ma è chiaro che se qualcuno dovesse registrare l'impianto al catastro regionale anche dopo il 7 non penso che ci siano problemi. L'appello che noi ovviamente facciamo è di cercare comunque di rientrare in questa data. Una cattiva manutenzione può portare problemi gravi come danni anche alla salute, uno scoppio di una caldaia, è chiaro che è particolare. Infatti io voglio ribadire questo concetto del mio collega che già ha iniziato lui. Sì, cercate di fare la comunicazione, cercate di farla in tempo e cercate anche di tenere nel giusto conto la manutenzione della caldaia per evitare quello che ho detto. Cosa deve fare un cittadino per ottenere altre informazioni? Sicuramente c'è il sito della Regione che si chiama Sienergia, Sienergia Sicilia, quindi basta entrare nel sito Sienergia appunto come dicevo per avere tutte le informazioni possibili. C'è stata anche una certa campagna di informazione con pagine acquistate su alcuni organi di informazione. Penso che forse non sia arrivata a tutti, quindi è giusto. Ringrazio infatti anche TCS per la possibilità che ci sta dando di poter veicolare a quante più persone possibili queste informazioni. Poi c'è per chi volesse, anche qui alla provincia, siamo disponibili al settore territorio ambiente a dare qualche delucidazione in più. La comunicazione in questo caso è importantissima. Sì, certo, è molto importante. Infatti io prego i cittadini, qualunque dubbio, qualunque problema essi abbiano, siamo disponibili, disponibilissime. Meglio la prevenzione che la repressione. A Caltanissetta un ispettore capo della Polizia Municipale celebra un matrimonio al Comune. Momento emozionante per Mario Di Salvo. Non solo sulle strade per attività di controllo o altro, a Palazzo del Carmine, un matrimonio celebrato da un ispettore capo della Polizia Municipale, Mario Di Salvo. Altri colleghi hanno celebrato dei matrimoni civili, però è sempre una cosa molto emozionante. Fra le altre cose sposo un mio caro amico e quindi è ancora più emozionante. In questo caso assumete anche un ruolo diverso? Sì, anche se molte volte bisogna per forza essere tutore dell'ordine e far rispettare le leggi. Ma oggi invece è una cosa molto più simpatica e sicuramente una cosa molto bella. È la prima volta? Per me sì, che faccio un matrimonio sì, sono esperto in altro. Otto pesisti azzurri agli europei di Tbilisi, tra i partecipanti anche due misseni, Mirko Scarantino e Jenny Pagliaro. Gare in programma da sabato. Adesso parliamo di viaggi a misura di bambino. La ricetta è semplice. Acqua cristallina e bassa vicino alla riva, sabbia pulita per costruire castelli, bagnini per la sicurezza e poi giochi e spazi per lo sport. Dalle spiagge di Positano in Campania, a Forte dei Marmi in Toscana, da San Felice Circeo nel Lazio a Spalmatore alla Maddalena in Sardegna, sono arrivate a quota 100 le località marine che si possono freggiare delle bandiere verdi dei Pediatri 2015. Quest'anno infatti sono state selezionate 18 nuove località in base alle preferenze espresse da un campione di 141 pediatri che si vanno ad aggiungere alle altre 82 spiagge a misura di bambino. Nel tempo sono stati adottati diversi criteri di selezione anche in base alla dislocazione geografica, tanto che con gli anni è emersa una distribuzione omogenea in tutto il territorio nazionale. Vi lascio alla rubrica Salute e benessere. si parlerà di prevenzione dei tumori. L'informazione continua su tcsnews.tv e è possibile scaricare da tutti i dispositivi mobili l'app per iPad, iPhone e Android. E attivo anche il canale 647 di TCS P1 con la programmazione indifferita di un'ora. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.